E bella a tutti ragazzi, sono Rimoldigno e oggi ragazzuoli siamo qua in un video veramente leggendario e fuoi di testa Allora ragazzuoli vi spiego tutto, avete letto bene? Sì, nel titolo è proprio proprio vero Perché ragazzuoli, ora sì, sono le 11.40 all'incirca ed è venuto l'orario una certa famina E allora ragazzuoli, perché non ordinare da McDonald's? Ora sono accastato solo, circa verso mezzogiorno deve arrivare anche mio papà E gli ho già chiamato e gli ho già chiesto, pa prendiamo da me che lui fa bene, va bene E allora ho detto ragazzi, qua mi si serve l'occasione in mano per fargli un bello scherzetto Allora ragazzuoli, ho una strategia infallibile per questo scherzo, vi chiedo 20.000 like Vi lascio 5 secondi per lasciare like, 5, 4, 3, 2, 1 Raga, è uno scherzo ma li andremo a ordinare veramente e poi verranno mangiati da me e dai miei amici Quindi andate tranquilli Raga, allora praticamente vedrete la strategia Lui non si accorgerà di nulla e vediamo la strategia se la capite Quindi adesso lo chiamo qua per ordinare Ragazzi, farò tutto veloce apposta per fargli vedere Raga, un like ora, iscrivetevi al canale E detto ciò, si è fatta una certa Voglio Air Nuggets Ok ragazzi, ci siamo trasferiti qua su Delivro perché li andrò a ordinare e non li vado a prendere La cosa che farà ridere sarà anche appunto il ragazzo che arriva e porta circa, non so quanti siano, 120, non lo so ragazzi Allora, faremo, dirò a mio padre che voglio prendere 6 nuggets Ma in realtà vedrete cosa succede Allora, io direi che ci siamo Qua è tutto a posto Eh, mi devo ricordare di censurare tutto Speriamo E vediamo se ci sono i nuggets ragazzi Già a controllare Ok, pacco da 20, 9, 4, 6 Buono, buono, buono E qualche salsino Pa, papi Vieni un secondo che ordiniamo da Mac, dai Non so cosa vuoi tu Non mi dici mai quello che vuoi Ok, allora ho visto già, boh, novità, c'è il goloso I nuovi chicken wings, hanno detto con carne italiana, tutta roba Buone Hanno detto che sono anche più piccanti Ah, vabbè, poi cross Ah, vabbè, no, cross Eh, un po' in menù Tu cosa vuoi? Dimmi Il menù Offro io Allora, allora ne approfitto No, no Mac menu, crispy, meat bacon Crispy, ma quello grande, dai, grande, dai Va bene Quello è il gran Allora, però c'è un problema perché ho visto che ho un po' Praticamente un po' di soldi sulla carta prepagata E un po' sulla carta di credito Quindi faccio un ordine da una Così li finisco quelli sulla prepagata i soldi Va bene Ma non voglio averli lì Allora, sto vedendo Io avevo una grande voglia Dove sono qua? Di chicken wings, i nuggets Yeah, chicken wings, sai, buonanotte I nuggets di pollo Va bene Quindi non so come li prendo io adesso Ma quanti sono? Tanto tu guarda Con un secondo controllo Ah, aspetta, esatto Facciamo Boh, io volevo un 6 nuggets Facciamo tra testo, dai Sono piccanti quelli lì No, no, non sono quelli piccanti Sono quelli normali Ah, ho capito Cioè non sono le alette di pollo Sono quelli di pollo Ah, l'ho capito Vabbè Adesso controlla un secondo Se ci sono delle offerte sull'app intanto Mi ordino Quindi 6 e 3 a testa Va bene C'è la sezione offerte lì sotto Eh, ma se c'è le offerte Se vai là magari a prenderle con la macchina Ok, allora metto Che Eh, magari Potremmo anche prenderci un dolcetto, no? Ok, 6 nuggets Ok, tutto Eh, vedi Se tu vai là con la, come si chiama, la macchina E poi prendi il coupon E gli danno un'offerta Ok Ah, hanno fatto tutti i gelati nuovi, guarda Buoni Prendece ne uno, no? Eh, sì Ci sta McFlurry Bounty Ok Non solo la faccia mi viene buona, no? Aspetta un po' Novità C'è anche quello McFlurry Oreo Non è male Io prenderei anche un McFlurry Bounty Ah, ma per il dolce, dici? Esatto, sì Ok Va bene Allora Ah, intanto ho ordinato il mio Sì Ok Fetto Non tieni Cosa c'è? Tieni Eh? No, ma sono un curiore Cosa? Sono un rimbambito Come rimbambito? No, non dirmi papà Cosa c'è? Ho fatto una cazzetta Cosa? No, ho fatto una cavolata Ma che cosa è successo? Eh? Mamma mia Pensavo che il 6 fosse la quantità Mamma mia Ho preso 6 vaschette da 20 papà 6 vaschette da 20 dici che? Mi vien da piangere Guarda Mi vien da piangere Ma perché? 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 Perché si muove Chiara Ha sbagliato l'ordine questo qua Anziché 6 ne ha preso 6 per 20 Arrivano 120 Arrivano 120 Mamma mia No, io sto Ma Ascolta Chiara Guarda io adesso Ascolta Guarda là Cosa? No, la schermata Dico Sto registrando Non è uno scherzo Ma smetti No, ma come è uno scherzo L'hai preso davvero qua Ma sei fuori di testa 67 euro di nuggets Ma chi lei mangia Tutta sta roba? No, allora Per quello Ho già pensato Ma chi se ne frega Ma hai speso 67 euro di roba Ma basta Sto scherzi qua Si muove davvero Ma perché? Ti ho fatto guardare il telefono In mente Pam pam Sei selezionato Ascolta Ma adesso come fai a mangiare tutta roba? Strategia Arrivano Come arrivano 11 Un quarto Un dici e trentacinque Come 11 e un quarto Un dici e trentacinque Ma adesso viene qua Questo qua Con tutta sta roba Ma come si fa? Un rider Un rider Ma chi se ne frega del rider Hai speso 67 euro Ragazzuoli Ci vediamo Quando arriva l'ordine Adesso voi non lo vedete più Perché è finito No, no Lo vedete Lo vedete Almeno fammi finire il video Adesso abbiamo raggiunto proprio il limite Io c'è sinceramente Un padre ha un limite Ma adesso basta Perché lui continua A giocare con tutte queste cose qua Adesso Io Allora Adesso quando arriva A questo qua Poveretto lui Guarda Non so che cos'è Che gli devo Gli dico praticamente Che lui ha dei problemi Perché Mi scuso davanti anche al rider E che è già partita la transizione Ordine in preparazione Ma chi se ne frega Ho già scalato i soldi A Apple Ascolta Chiamali Digli che ti sei sbagliato il numero Li voglio arrivare No Ascolta Bella ragazzi Ciao Ascolta Chiamali subito No no Li voglio fare Mamma mia Ok ragazzuoli Ho appena visto E mi hanno appena avvisato Mi è arrivata l'e-mail Che rider Sta arrivando Ovvero quello che me li porta Mi fa Fai di là Il cazzatonino Allora adesso vado giù Poi a prenderli Quando ci tofona Regà Sono proprio esagerato Papino Stanno per arrivare 120 nuggets Guarda Simone Vai di là Ti prego Vai di là Vai di là Non voglio neanche vederlo Io non voglio neanche vedere niente Adesso ci tofona Adesso ci tofona Arriva giù Ascolta Ascolta Simone Io non voglio sapere niente So che se Se vedo arrivare dentro Un nuggets qua Volano giù dalla finestra Guarda E arrivano 120 nuggets Basta vai via Vai via Vai via Lol Adesso dovrebbero arrivare ragazzi Vediamo lì quanto dice che manca Poco manca 5 minuti Ok ragazzi È arrivato Scendo Vai Chiudi 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 Regà 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 Ok Regà Ci siamo Zero Oh mio dio Allora Là non lo potrò riprendere Quindi terrò il telefono Così ragazzi Let's go Cos'ennò lo tengo dietro la schiena Così Sì sì Regà Adesso vediamo giù Dovrebbe essere già arrivato In teoria Allora Allora Là Non vedo nessuno ragazzi Quindi No good Sta cosa Ma dovrebbe arrivare qua Vi ho dato anche le indicazioni Del mio piano E tutto Mi ha scammato Mi ha scammato Apriamo qua E aspettiamo in strada Ragazzi Ha aperto il castello Ragà Non ci sta nessuno Qua Ma vuota fa Mi hanno scammato Ue eccolo là Sta arrivando Sta arrivando in fondo Ragazzi L'ho in bici Regà Sono arrivati Lol Regà Sono sfionati Pesano No regà Ve lo giuro Peseranno 5 kg tutti Ragà Veramente Tu si sente proprio L'unto Fino a qua Adesso ve li faccio vedere Su li portiamo Ad mio padre Adesso arriva su Mi uccide Lol Che ragà Sono davanti alla porta Sono io Vai dentro Guarda che roba Vai dentro Perché guarda Che adesso Ti metto le mani Vai dentro Oddio Quante grosse Apri apri 10 kg di roba Hai sentito quanto pesa? Ma lascia stare Ma saranno anche buone Ma come fai a mangiarle Facciamogli vedere Facciamogli vedere Only quality Only Come only quality? Ma quello cos'è che è? È un pacchettino da 20 Come pacchettino? No Ma cos'è successo papà? Cos'è successo? No Aspetta no Fermo 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 Non buttare Fermo No Hanno sbagliato Hanno sbagliato Hanno sbagliato Non gridare Che sente tutto il condominio Che sono arrivato Sono bollenti Chiama qualcuno per mangiare Chiama il condominio No ci sono già i miei amici Adesso andiamo a mangiarli Ragazzi Nessun cibo verrà sprecato Andiamo assieme a mangiarli Insieme a altri 10 miei amici Posso mangiarne una? Sì E io ne volevo 6 però E niente ragazzuoli Bella Poi It's Epico anche questo Grazie